il tennis proseguiamo il nostro discorso secondo video qui vedremo quali sono i fondamentali di questo sport e poi riprodogheremo tutto quanto attraverso una mappa concettuale tutto quanto per tutto quanto intendo anche quanto detto nell'altro video i fondamentali il tennis come tutti gli sport prevede dei gesti tecnici che si chiamano fondamentali sono la base del gioco l'alfabeto gli strumenti del giocatore per praticare questo sport i copi fondamentali del tennis sono la battuta diritto il rovescio lo smash la volet la smorzata il pallonetto vediamoli uno per uno cominciando con la battuta o servizio che è il colpo con il quale si mette in gioco la palla il servizio un colpo molto importante in quanto consente se ben realizzato di dominare da subito lo scambio può essere giocato piatto cioè colpendo la pallina con tutta la potenza possibile oppure ad effetto per cercare di sorprendere l'avversario john iner il diritto quel colpo che si effettua quando la palla viene colpita la propria destra o sinistra per i giocatori mancini dopo rimbalzo probabilmente è il colpo più importante per un giocatore di solito è anche quello che viene realizzato con più naturalezza più facile più immediato il colpo può avere differenti metodi di realizzazione in base all'impugnatura della racchetta che si sceglie di utilizzare questo è il diritto mancino di raffael nadal il rovescio quel colpo che si effettua quando la palla viene colpita la propria sinistra o destra per i giocatori mancini dopo il rimbalzo principalmente il rovescio può essere eseguito a una mano o a due mani ed entrambi i colpi presentano vantaggi dei vantaggi degli svantaggi per chi li esegue anche nell'esecuzione del rovescio ci sono diversi tipi di impugnature che si possono utilizzare questi è stan wawrinka lo smash in italiano schiacciata è fondamentalmente la risposta a un pallonetto è molto spesso un colpo vincente con un colpo offensivo soprattutto nel tennis maschile può essere realizzato al volo o dopo un rimbalzo il movimento che si esegue è simile a quello che si effettua per il servizio è un colpo che richiede un buon senso della posizione è una buona ricerca della palla roger federa la volé è in generale il colpo con cui la palla viene colpita al volo quindi prima che rimbalzi prevede molto i varianti voli alto oppure voli bassa voli di diritto oppure di rovescio voli smorzata oppure voli pallonetto c'è poi la variante della demi volé in cui la palla viene colpita subito dopo il rimbalzo sul campo con un movimento che va dal basso verso l'alto è un colpo tecnicamente molto difficile stefan edberg questo è un giocatore di una ventina d'anni fa forse anche di più parliamo di palla corta o smorzata è un colpo che tramite taglio ed effetto sulla palla richiama l'avversario a rete è un colpo che si esegue soprattutto quando l'avversario è distante in posizione sfavorevole in modo che faccia difficoltà a raggiungere la palla per fare questo la palla corta va fatta rimbalzare il più vicino possibile alla rete ovviamente nel campo dell'avversario il taglio che si imprima la palla conferisce ad essa un effetto all'indietro o laterale con la conseguenza pratica che la palla stessa tende quasi a fermarsi nel punto dove rimbalza il lob o pallonetto può avere finalità difensiva o di attacco il lob difensivo si esegue quando si è fuori posizione in modo tale da rallentare la palla per guadagnare tempo utile a recuperare oltre che per spezzare il ritmo dell'avversario indurla all'errore il lob offensivo il lob d'attacco si esegue invece quando l'avversario è a rete costringendolo a rincorrere la palla superandolo e costringendolo a rincorrere la palla come in questo caso Roger Federer che è il giocatore in canotta arancione in primo piano sta superando con un pallonetto il giocatore avversario che è Andrea Agassi che si trova nei pressi della rete ma abbiamo detto tutto cosa abbiamo detto il tennis abbiamo imparato il campo da gioco delle regole da gioco delle infrazioni come l'out il doppio tocco il let l'invasione e il fallo di piede abbiamo parlato dell'arbitro ed è fondamentale che sono la battuta il diritto il rovescio la volé lo smash la smorzata e il lobo pallonetto buono studio